Ciao, sono Davide e siamo all'officina 2009, è un'associazione di promozione sociale e da circa un annetto siamo in questa sede in bio-bificio numero 12, l'idea è quella di coniugare un luogo di ritrovo in cui i soci possono incontrarsi, bere una birra, bere un caffè, leggere una rivista, sfogliare un catalogo eccetera eccetera, associato a un'officina vera e propria in cui le biciclette vengono assemblate, riparate, create a seconda dei gusti di ciascuno e delle esigenze e ad una sorta di, quello che ci piace definire una sorta di gas, un gruppo di acquisto solidale, nel senso che in virtù del fatto che siamo molti, i soci dell'officina, dell'associazione, possiamo avere nei confronti dei venditori grossi una relazione privilegiata per cui comprare per tutti quello che è necessario a un prezzo vantaggioso e in questo modo favorirò la diffusione della bicicletta. Ciao, sono Federico, faccio parte dell'officina 09, sto cercando di riparare una bicicletta, la parte centrale di una bicicletta, il movimento centrale. Beh, ripararla perché ovviamente magari si tratta di una piccola riparazione, un cuscinetto magari che non funziona bene, una vitina che non è in posizione. Chiaramente la 09 ha molto a cuore, diciamo, il riciclo delle parti, evitare lo spreco in generale. Ma se qualcuno volesse venire da voi per farsi riparare la bicicletta, che prassi dovrebbe fare? Eh, deve presentarsi a questa porta, diventare socio dell'associazione, visto che siamo un'associazione dobbiamo, necessariamente, possiamo e dobbiamo e possiamo rivolgerci solo ai soci, e quindi questo è un passo fondamentale. Eh, fine. Semplicissimo. Ciao, sono Pasquale, anch'io sto lavorando su una bicicletta qui all'associazione Zero. In questo momento stiamo montando una guarnitura su una vecchia legnano. Tanti anni fa, quant'anni avrà questa? Ah, è stata una cinquantina. Però se li porta bene. Certo, una marca migliore spesso può voler dire un vestimento migliore dal punto di vista anche di quelli che sono i requisiti tecnici di una bicicletta, la qualità dei materiali che vengono utilizzati, ci sono materiali nuovi, non ci stiamo occupando in questo momento di questa situazione. Ragazzi, usatela la bicicletta, usatela, usatela, usatela. Usatela, usatela, usatela poco, usatela, diccio. Grazie a tutti.